Il ciclone Pama devasta l'arcipelago delle Vanuatu e fa tremare l'intero Oceano Pacifico. Ancora incerto il numero delle vittime, si parla di una decina di morti e numerosi feriti, ma sono molti villaggi non ancora raggiunti dai soccorsi. Piogge, venti fino a 300 km orari, alberi sradicati, case distrutte. Il paese è completamente isolato. Ora si teme una catastrofe umanitaria. Nella capitale del piccolo stato, Portvilla, manca tutto, elettricità, acqua potabile e le scorte di cibo stanno finendo. Il ciclone è stato declassato da 5 a livello massimo a 4, ma la sua forza fa ancora paura. La Croce Rossa australiana ha parlato di una distruzione incredibile e ha già chiesto aiuto all'ONU. Il presidente di Vanuatu ha lanciato un appello per chiedere aiuto per la popolazione. Quello che viene considerato il paese più felice al mondo sta vivendo davvero ore drammatiche. Grazie.